Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo Eccoci qui amici di Radio Bruno in diretta da Sanremo con una giovane protagonista Giulia Casieri, benvenuta Ciao, grazie Come sta andando ad emozione? L'emozione è sempre più agitata, ormai il tempo è finito e quindi sono sempre più agitata però sono emozioni che vale la pena di vivere quindi sono molto felice E soprattutto servono queste emozioni guai se non ci fossero Certo, assolutamente Pinta piccola, sei sempre stata vicinissima alla musica, la tua grande passione Te l'aspettavi di arrivare sul palco dell'Ariston? In realtà no, è stata una cosa tutta inaspettata, è stato un percorso difficile ma piacevole allo stesso tempo, sono molto soddisfatta Abbiamo visto che Claudio Baglioni, soprattutto durante le prove, veniva lì da voi, vi incoraggiava, vi dava dei consigli Che cosa ti ha detto, se si può dire? Allora in realtà non ho mai avuto l'onore di parlarci da sola, però è una persona molto carina, modo, umile A me piace molto, mi piace molto Eh immaginiamo, comunque è la storia della musica italiana La prima frase, anzi l'ultima frase, l'ultimo pensiero che avrai prima di varcare quella porta fatidica Oppure scendere le scale di Sanremo? Di dare tutto quello che posso, quindi spero di sfruttare questa opportunità al meglio Parliamo della tua canzone invece, raccontacela un po' Allora, questo brano è nato un po' per caso, nel senso che mi ricordo che la prima cosa che ho scritto è stato questo ritornello In cui mi domando come stai, come sto E alla fine ho deciso di rispondere, di raccontare, di cantare questa risposta Quindi ho cercato di raccontare tutte quelle forti emozioni che hanno caratterizzato una parte della mia vita, insomma E dopo Sanremo invece che cosa succederà? Sicuramente a prescindere dall'esito di Sanremo continuerò il mio percorso artistico E stiamo lavorando ad un disco Non sappiamo la data di uscita definitiva Però sicuramente andiamo avanti per questa strada Sonorità in stile sanremese, quello che abbiamo sentito di te, oppure spazierai? Ma diciamo, il mondo in cui mi ritrovo di più è Black Music Soul, questo mondo qua Quindi spero di riuscire in qualche modo ad avvicinarmi più a questo mondo Allora, ti ringraziamo tantissimo Grazie a voi Cosa vuoi che ti diciamo? Viva il lupo, non diciamo nulla? Niente Non diciamo nulla, soltanto grazie a Giulia Casieri Grazie a voi, grazie Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Guesthouse, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, Concessionaria Renaud Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e B per Banca